Ciao, bentrovati! In questo video continuiamo a parlare dei promessi sposi, di alcuni degli aspetti centrali del romanzo di Alessandro Manzoni e in particolare di alcune delle tecniche narrative utilizzate appunto dall'autore. Nel precedente video abbiamo parlato già dell'aspetto riguardante la focalizzazione, ovvero il punto di vista, attraverso quali prospettive, quali punti di vista Manzoni ci racconta la vicenda dei promessi sposi. Abbiamo visto come talvolta assuma una prospettiva interna mettendosi nello sguardo di un personaggio, nei panni di un personaggio e quindi facendoci vivere una parte della storia attraverso i suoi occhi, i suoi pensieri, ma molto spesso utilizza invece la tecnica del narratore onnisciente, ovvero il narratore che sa tutto, conosce tutto e condivide con i lettori ogni dettaglio della vicenda, del contesto storico sociale del romanzo, oppure dell'esistenza di un personaggio e del suo universo emotivo, di ciò che prova e ciò che pensa. Ecco, proprio la tecnica del narratore onnisciente è utilizzata in maniera eccelsa in una sezione dei Promessi Sposi, quella dedicata alla figura di Gertrude, meglio conosciuta come la monaca di Monza. È un personaggio che incontriamo nel nono capitolo dei Promessi Sposi, occupa anche il decimo capitolo, lo ritroveremo brevemente in seguito, quindi apparentemente ha uno spazio molto ridotto all'interno di un romanzo così corposo, ma in realtà è un personaggio che è riuscito proprio a segnare l'immaginario collettivo, probabilmente la figura più memorabile e forse anche la più riuscita all'interno proprio dell'universo narrativo creato da Manzoni nei Promessi Sposi. Nel nono capitolo del libro, subito dopo l'addio Monti, Gertrude ci viene introdotta come la signora, c'è già questo senso di ambiguità nel modo in cui viene presentata a Lucia Agnese, che fuggite dall'Europa e se devono rifugiarsi in questo convento di Monaca e Monza, su suggerimento di Fra Cristoforo, e quindi chiedono protezione e asilo alla signora, che è una giovane monaca di nobilissime origini, che appunto si presenta ai personaggi, viene introdotta da questa descrizione fisica, già molto dettagliata e particolare, perché già ci rivela alcuni aspetti anche contrastanti del suo carattere, della sua personalità, ma a quel punto Manzoni interrompe, diciamo, il racconto legato alle vicende di Lucia, e quindi la narrazione al presente, per aprire un analessi, un analessi in cui ci presenta la vicenda di Gertrude praticamente dalla nascita, le manipolazioni psicologiche, le torture praticamente psicologiche subite da parte della sua famiglia, che la costringeranno poi a prendere i voti, quindi a entrare in convento. In questa parte il narratore onnisciente, ecco, davvero ci mette a parte di ogni pensiero, di ogni moto dell'animo, di ogni turbamento e inquietudine di questo personaggio vittima della propria famiglia, vittima della società, e che si ritrova a non essere padrona della propria sorte e della propria esistenza. Però poi, nel momento in cui Gertrude prende i voti, c'è questa famosa frase appunto, fu monaca per sempre, ecco, da questo punto in poi, man mano la narrazione cambia un pochino, e Manzoni adopera alcune figure retoriche e alcune tecniche narrative particolari che andremo a vedere appunto, ad analizzare, prendendo ad esempio queste pagine, quelle del decimo capitolo in particolare, che concludono la storia di Gertrude. Allora, partiamo dalla reticenza, prendendo a prestito la definizione dell'Enciclopedia Treccani un po' rielaborata. Allora, in narratologia, ovvero nello studio e nell'analisi di testi e opere letterarie, la reticenza è quella figura retorica che consiste nell'interrompere improvvisamente il discorso prima di pronunciare una parola sconveniente o eccessiva, prima di formulare una minaccia, oppure allo scopo di tenere in sospeso l'animo dell'ascoltatore. Quindi c'è un'interruzione improvvisa di un discorso. A volte Manzoni ha già usato la reticenza per non rivelarci alcuni dettagli specifici dei luoghi in cui si è ambientato il romanzo o anche di alcuni personaggi, però in questo caso, nel caso della monaca di Monza, la reticenza invece viene utilizzata con un obiettivo ben diverso. Andiamo a vedere bene come. Allora, ci troviamo nel decimo capitolo del romanzo e parlando della quotidianità tormentata di Gertrude in convento, a un certo punto il narratore ci introduce il fatto che lei stava in un quartiere a parte e quel lato del monastero era contiguo a una casa abitata da un giovine, scellerato di professione, appunto lo scellerato Egidio, il nostro manoscritto lo nomina Egidio, senza parlare del casato, anche qui abbiamo una sorta di reticenza un po' ironica. Costui, da una sua finestrina che dominava un cortiletto di quel quartiere, avendo veduto a Gertrude qualche volta passare o girondolar lì, Perozio, allettato anziché atterrito dai pericoli e dall'impietà dell'impresa, un giorno sa rivolgerle il discorso. La sventurata rispose. Ora, in questo la sventurata rispose noi abbiamo la reticenza, nel senso che Mazzoni interrompe qui il discorso, interrompe in qualche modo la narrazione. Perché? Perché non scende nei dettagli, a differenza di ciò che aveva fatto fino a quel momento. Diciamo, la frase in sé, a livello letterale, sul piano letterale, anzi queste due frasi, non ci danno, non sembrano darci perlomeno tante informazioni o non sembrano spiegarci cosa avviene effettivamente fra questo Egidio e Gertrude. Ci sono delle allusioni, ecco, Mazzoni lavora con le allusioni, ovvero parla di Egidio che per, diciamo, per ozio, per noia, allettato, quindi appunto stuzzicato, tentato dai pericoli e dell'ampietà dell'impresa, o so rivolgerle il discorso. Nella sventurata rispose, frase famosissima, Mazzoni non ci dice granché, però allude a cosa potrebbe essere accaduto dopo. Lui, nelle righe successive, poi, non si sofferma su questo aspetto, ma parla piuttosto dello stato d'animo di Gertrude, quindi anche qui ci fa comprendere un po' cosa potrebbe essere accaduto. In quei primi momenti provò una contentezza, non schietta al certo, ma viva. Nel vuoto uggioso, nel vuoto uggioso, quindi dell'animo suo, si era venuta a infondere un'occupazione forte, continua, e direi quasi una vita potente. E procede, appunto, con questa introspezione psicologica del personaggio. Però c'è un vuoto, un qualcosa che Mazzoni non ci ha detto esplicitamente. Ecco, questo vuoto narrativo corrisponde alla parte di una storia che viene censurata, censurata nel senso di nascosta, volutamente nascosta, volutamente resa implicita al lettore, e corrisponde a una figura retorica che è quella dell'ellissi. Andiamo a vedere la definizione di Treccani. L'ellissi è la figura retorica che consiste nell'omissione, in una proposizione, di uno o più elementi che si possono sottintendere. Omettere vuol dire togliere, vuol dire cancellare, quindi in una frase, in un discorso, alcuni elementi si possono togliere. E questo è l'ellissi. Questo a livello, diciamo, sintattico di costruzione della frase. Ma nell'ambito dell'analisi narratologica, cioè quando analizziamo opere, testi letterari e così via, l'ellissi è l'omissione di alcuni eventi in rapporto al tempo della storia. Il tempo della storia è l'insieme degli avvenimenti che compongono la narrazione di un romanzo, di un film, di una serie tv, di qualsiasi cosa. Quindi rispetto al tempo della storia, a questa catena di eventi, di vicende, c'è un'omissione, c'è una parte che non ci viene raccontata o mostrata direttamente, che l'autore e il narratore scelgono di, come dire, di coprire, di velare, di rendere implicita. Manzoni utilizza molto l'ellissi in questo decimo capitolo dei Promessi Sposi. Andiamo a vedere in che maniera e a quale obiettivo, a quale fine. Allora, Manzoni ci sta parlando del comportamento bisbetico di Gertrude all'interno del convento. Lei viene da una famiglia estremamente potente, quindi è un'intoccabile nel convento. Che succede però? Un giorno che la signora, venuta a parole con una conversa per non so che pettegolezzo, si lasciò andare a maltrattarla fuori di modo e non la finiva più. La conversa, dopo aver sofferto ed essersi morse le labbra un pezzo, scappatala finalmente la pazienza, buttò là una parola. Che lei sapeva qualche cosa e che a tempo e luogo avrebbe parlato. Quindi una velata minaccia. Anche qui c'è una reticenza da parte di questa conversa che però minaccia Gertrude. Da quel momento in poi la signora, Gertrude, non ebbe più pace. Già in questo non ebbe più pace, che succede? Il narratore ci fa capire che Gertrude ha motivo di temere di essere denunciata per qualcosa di illecito, quindi si ricollega a quella sventurata rispose. È tutta una serie di indizi che ci fanno capire che dietro quella sventurata rispose c'è un ellissi e questo ellissi è presumibilmente una relazione clandestina tra Gertrude ed Egidio. Va avanti, però attenzione perché Mazzoni fa qualcosa di ancora più raffinato, se vogliamo, non passò però molto tempo che la conversa fu aspettata in vano una mattina ai suoi uffizi consueti, quindi alle preghiere del mattino. Si va a vedere nella sua cella e non si trova. È chiamata ad alta voce e non risponde. Cerca di qua, cerca di là, gira e rigira, dalla cima al fondo non c'è in nessun luogo. E chissà quali congetture si sarebbero fatte se appunto nel cercare non si fosse scoperto una buca nel muro dell'orto. La qualcosa fece pensare a tutte che fosse sfrattata di là, cioè che fosse fuggita da questa buca, insomma. Appunto, si fecero gran ricerca in Monza nei contorni, cioè nei dintorni, e principalmente a me da dove era quella conversa. Si scrisse in varie parti, non se ne ebbe mai la più piccola notizia. Attenzione, qui c'è un'altra frase cruciale, un altro colpo di genio dell'arte narrativa di Mazzoni. Forse se ne sarebbe potuto sapere di più se, invece di cercare lontano, si fosse scavato vicino. Non ci viene detto altro. C'è questa parola scavato. Scavato in senso metaforico vuol dire indagare, ricercare, no? Ma scavare in senso letterale vuol dire letteralmente, appunto, andare a vedere cosa c'è sotto terra. Ora, qui cosa fa Mazzoni? Mette un'altra ellissi, cioè non ci dice cosa è successo a questa conversa, non ci racconta esattamente che fine ha fatto questa conversa, però lavora per allusioni, vuole suggerirci qualcosa, vuole stuzzicare l'immaginazione, l'intuito di noi lettori. Infatti, ecco, che succede? Qui abbiamo questa sorta di parentesi quasi da giallo, da romanzo noir nei Promessi Sposi, e è significativo ciò che avviene dopo. Appunto, si pensa che questa suora, questa conversa, sia fuggita in Olanda, però Mazzoni ci fa rientrare nei pensieri di Gertrude e ci dice non pare però che la signora fosse di questo parere. Non già che mostrasse di non credere o combattesse l'opinione comune con sue ragioni particolari, eccetera, eccetera, né c'era cosa da cui sastenesse più volentieri che da rimestar quella storia, cosa di cui si curasse meno che di toccare il fondo di quel mistero. Ma quanto meno ne parlava, tanto più ci pensava. Ecco che entriamo, attraverso il narratore onnisciente, nell'animo di Gertrude, nei suoi pensieri. Quante volte al giorno l'immagine di quella donna veniva a cacciarsi di improvviso nella sua mente e si piantava lì e non voleva muoversi, quindi come un fantasma, letteralmente. Quante volte avrebbe desiderato di vedersela dinanzi di verreale, piuttosto che averla sempre fissa nel pensiero, piuttosto che dover trovarsi giorno e notte in compagnia di quella forma vana, terribile e impassibile. Quante volte avrebbe voluto sentire davvero la voce di Colei, qualunque cosa avesse potuto minacciare, piuttosto che aver sempre nell'intimo dell'orecchio mentale il sussurro fantastico di quella stessa voce e sentirne parole ripetute con una pertinacia, con un'insistenza infaticabile, che nessuna persona vivente non ebbe mai. Nessuna persona vivente. Qui in qualche modo ci viene confermato che questa conversa è morta. E che succede? Il tormento psicologico subito da Gertrude è un chiarissimo indizio delle lissi, di ciò che è avvenuto nel tempo della storia, ma che Manzoni ha tagliato. Se andiamo a rileggere il Fermo e Lucia, cioè la primissima versione, quella originaria dei Promessi Sposi, non c'è queste lissi. In questa parte Manzoni scendeva molto più nei dettagli e costruiva un racconto in cui questa conversa veniva letteralmente e esplicitamente assassinata nottetempo da Egidio, con la complicità di Gertrude. Perché? Perché questa conversa aveva appunto scoperto la relazione clandestina fra i due, correvano il rischio quindi di essere denunciati e nottetempo viene commesso questo omicidio e il corpo viene poi sepolto, viene fatto sparire. Ora, questo elemento giallo, questo elemento da thriller gotico, nei Promessi Sposi scompare, viene inglobato da queste lissi, ma queste lissi in realtà è funzionale a suggerire a noi lettori, a farci riempire i vuoti. Le lissi servono a questo, Manzoni non è che vuole censurarsi, ma desidera che il lettore si senta stimolato a entrare nella storia, a riempire i vuoti e a proseguire da solo lungo il percorso di queste allusioni, di queste suggestioni che lui ci lancia, di queste reticenze appunto che però ci indicano chiaramente verso una certa direzione.